eccoci sulla cima del monte secco montesecco questa volta del monte secco brembano c'è anche qui le nuvolaglia che vai che viene ma sto cogliendo l'attimo in cui se un attimo aperto per fare un minimo di video adesso dobbiamo andare sul pegherolo che dovrebbe essere quello di fronte fare un un giro ad anello vediamo se ci riusciamo senza perderci tra le nuvole molto bello anche questo anche questo questo monte secco di qua anche qua cresta esposta carina con qualche roccetta molto piacevole ciao